Ho fatto tanti sacrifici, quindi quest'oro non è la gara di oggi, ma tutto il percorso che ho fatto. Sulla baglia di Tokyo, l'acqua azzurra, lacrime, lacrime, la medaglia d'oro. Olà, ce l'ho fatta, Yuri! Medaglia d'oro per Ruggero Tita e Caterina Avanti. Andiamo signori, sul filo dell'ora 21, Italia ha la medaglia d'oro, Massimo Stano. Antonella Palmisano è campionessa olimpica. Sembrano marziani, ma non sono questi ragazzi, sono delle frecce, delle frecce azzure che adesso risplandono d'oro. E' la mia olimpiade, andiamo. Io no! Andiamo! 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 Andiamo Gianmarco! Andiamo sulla luna! E' la mia olimpiade, e' la mia olimpiade. E' la mia olimpiade! Massa Giacob parte, Massa Giacob va! Vincere! Massa Giacob va! Vincere! 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 Av록 Macri隅 2 u数one, San Francisco Marzx Word Wacca San Carlo Italia enfermedet da questo sogno